Quando si ha la fortuna di trovare un posto per parcheggiare in via Ghinaglia bisogna poi stare attenti a quando si scende dalla macchina perché si possono calpestare rifiuti che vanno dalle bottigliette alle cartacce. Una situazione che secondo i residenti sta peggiorando e il degrado dei luoghi si estende ormai anche alle situazioni che diventano pericolose soprattutto in certi orari della giornata. Sempre sporco, pieno di stranieri, dire la droga in quel vicolo là, poi non parliamo. Dire la droga. Promettono ma non fanno niente. Alla sera non esco mai, mai neanche pomeriggio della paura perché è diventata schifosa Cremona. Tutti fanno quello che vogliono, buttano in terra monsiconi sporco, fazzoletti. Una cosa vergognosa. Anche le persone per la strada, devi avere paura. Se è fermata una l'altro giorno, si è vicina, mi guarda la borsa, l'Italia, questa qui ha qualche intenzione. In giro qua, poi è diventata una cosa oscena. Io alla sera non esco mai perché esco solo quando devo andare a lavorare. Tutti abbiamo anche in casa la porta blindata, per dire. Io ho anche le doppie finestre e tutte le sicurezze perché quando esco ho sempre paura che qualcuno venga in casa a rubare. C'erano i vigili di quartiere un tempo o altro, quindi direi che bisogna un po' ritornare per prestare più attenzione a questo, impiegare forse i soldi anche in una maniera diversa, non so. Soprattutto la nostra zona non è più come prima, insomma. Una sporcizia Cremona indescrivibile. Qui è indecente. È una cosa incredibile vedere Cremona in queste condizioni. La sera non esco mai. Lo sdegno e la paura sono sia nelle parole che nei comportamenti delle persone che riadattano le loro abitudini e necessità in base ai momenti di maggior tranquillità della giornata, situazioni per cui chiedono controlli, interventi e soluzioni.